Ma inizia era un campo non in perfette condizioni, una squadra fisica, una squadra determinata che la domenica non meritava di perdere a San Benedetto, ma sarà così con Notaresco, sarà così con Avezzano. Noi dobbiamo essere pronti a fare la nostra partita, anche a volte, come adesso dicono gli allenatori veri, quando si sporca, ok, sento questo termine, la partita si sporca, noi dobbiamo essere pronti a lottare sogni e palla perché quella determinazione, soprattutto l'approccio iniziale, deve essere ancora più convinto e cattivo della squadra che vuole vincere e vuole rimanere attaccata la sua.